Trans Italia Marathon è una manifestazione di turismo della federazione, da me organizzato, da me voluto, attraverso tutto uno staff di persone, sotto le città della federazione internazionale motociclismo che racchiude quella che è la partecipazione dei motociclisti viaggiatori di tutto il mondo più adatti, più avversi a percorrere itinerari avventurosi. L'obiettivo è quello di creare, ancora per questa volta, quindi per l'evento, un itinerario che attraversa tutta l'Italia, attraverso tutti quei luoghi, diciamo, veramente poco appattuti dalla massa, attraverso un percorso molto appagante anche a tratti impegnativo per la lunghezza, che partirà da Rimini e dopo tre tappe arriverà qua a Marina di Pescara. Vede la partecipazione di 16 nazioni da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, Norvegia, Spagna, Olanda, Francia. Anche quest'anno la soddisfazione di aver chiuso l'iscrizione in sei minuti a gennaio, a fronte del fatto che l'evento è appena settimana prossima. È un'emozione importante, perché questo è un evento veramente di spessore, la possiamo paragonare a una mille miglia in moto. È un percorso che appunto passerà per Rimini, un itinerario bellissimo che poi entrerà in Abruzzo, visiterà il Parco Nazionale Gran Sasso, a Maiella il mare, fino ad arrivare al nostro magnifico marina. Quindi è veramente un percorso turistico, oltre che appunto, possiamo dire, una gara di moto per appassionati di moto, ma soprattutto per noi è veramente una promozione turistica per far conoscere un po' tutto il territorio e il nostro marina di Pescara. Grazie.